Dal primo maggio prendere un caffè o mangiare al ristorante sarà come prima della pandemia. Infatti con la nuova ordinanza firmata dal ministro alla salute Roberto Speranza non ci sarà più bisogno di indossare la mascherina nemmeno per arrivare al tavolo o recarsi in bagno. Lo stesso per la spesa al supermercato. Girare tra gli scaffali e andare in cassa senza mascherina si può. Un messaggio di fiducia nei confronti dei cittadini. Lo ha definito all'indomani della firma il sottosegretario alla salute Andrea Costa. Decade l'obbligo di indossare la mascherina anche sui luoghi di lavoro a eccezione di chi opera nelle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali incluse le RSA, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani anche non autosufficienti. Rimane necessaria per entrare negli ospedali e visitare i parenti negli orari di visita. Qui l'obbligo resta in vigore fino al 31 dicembre 2022. Mascherina obbligatoria fino al 15 giugno anche per chi utilizza il mezzo pubblico dove non basta una protezione chirurgica o di stoffa ma serve la FFP2 come anche sui mezzi a lunga percorrenza aerei, traghetti, treni, pullman e agli scafi. Via libera invece all'accesso senza protezione, funivie e agli impianti di risalita. A scuola invece non c'è stato il libera tutti. Qui le mascherine continueranno a essere utilizzate fino alla fine dell'anno scolastico come già previsto dal decreto del marzo scorso. Capitolo Green Pass. Il certificato verde dovrà essere esposto fino al 31 maggio da chi entra nel territorio italiano. Mentre non serve più alcuna certificazione per alloggiare in albergo, per andare in palestra, per frequentare luoghi come piscina, centri benessere, parrucchieri, centri estetici, musei e teatri. Nessuna novità anche per gli spettacoli al chiuso. Fino al 15 giugno infatti i dispositivi di protezione individuale saranno obbligatori in sale teatrali, sale da concerto, sali cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo. Mentre per gli spettacoli all'aperto bisogna comunque avere la mascherina con sé e metterla in caso di assembramenti. Stesse regole che saranno attuate anche per gli eventi sportivi. Con la bella stagione che tarda ad arrivare il virus non ne vuole sapere di allentare la presa. Così l'utilizzo della mascherina resta a discrezione sia durante lo shopping sia al ristorante che sui posti di lavoro dove i datori possono fino al 15 giugno decidere in autonomia se trasformare la raccomandazione in obbligo.